Un bambino eccezionale Leone Lucia Ferragni, di una sensibilità unica. Ma è pur sempre un cucciolo, che gioca con la sua fantasia. E i genitori di questo sono follemente innamorati. Quasi ogni giorno accompagna il suo piccolo Leo fuori al balcone di casa e chiede al piccolo se vede Iron Man. Sì, eccolo, risponde prontamente Leone facendo impazzire di gioia il papà. Solo questi giorni però, il primo genito di casa Ferragni, si è reso protagonista di un'accesa discussione, tutta da ridere. Naturalmente a rendere pubblica la vicenda è sempre sulle sue stories di Instagram. Chi li segua saprà che lo scorso weekend, è volata in Grecia con gli amici mentre lo ha trascorso a Otranto per partecipare a Battiti Line. Il piccolo potrebbe aver trascorso qualche giorno all'aperto con i nonni, che hanno poi informato della discussione. Nel tenero filmato, Leone si trova in giardino ed è infuriato con il robottino tagliaerba. Il macchinario è immobile nell'erba e il figlioletto D.E. cerca di spronarlo, svegliati. Muoviti. Ma il tagliaerba non risponde. Allora, il piccolo furioso lo colpisce con la manina. Il tenero video, tutto da ridere, fa subito il giro del web. E commenta ironico, Leone alle prese con un dissing. Leone, il dissing col tagliaerba tutto questo a margine di un'altra discussione tutta da ridere. Quella trae un cavallo. Sì, avete letto bene. Il rapper milanese, primo in classifica con la canzone Tormentone dell'estate, dopo il concerto Battiti Live, ha deciso di fare un po' di allenamento sull'erba della villa che lo ospita. Leggi anche ma si vede tutto. La settimana di inizia nella doccia, con il lato B in bella mostra qui, contornato di dolci animali da compagnia, ha deciso di provare ad accarezzare un cavallo. C'è solo un problema, a differenza di Leone, lui ha un gran paura. Solo dopo diverse storie riesce finalmente a dargli una veloce pacca sulla testa. Ciao patato, dice all'animale. Nel frattempo il figlio sembrava un eroe contro quel tosaerba. Ma da chi avrà preso?